Bentornati su Recensioni per Scegliere Oggi parliamo di un videoproiettore della CrossTour Oggi vi parlo del proiettore modello P770 della CrossTour Andiamo subito ad aprire la confezione, vediamo cosa è contenuto all'interno e poi andiamo a vedere tramite il pannello qua dietro come si vede come si può collegare a un telefono e qual è la qualità di visualizzazione dell'immagine mentre vado ad aprire la confezione vi chiedo di mettere un mi piace sotto a questo video per aiutarmi a crescere col canale condividete questo video sui vostri social e con le persone a cui potrebbe interessare iscrivetevi cliccando anche sulla campanella se non siete già iscritti ma andiamo a vedere cosa è presente all'interno come possiamo vedere il confezionamento è abbastanza curato all'interno di questa scatola abbiamo a disposizione tutta una serie di cavi e accessori vari cavo per collegamento audio, cavo HDMI, un telecomando e poi il cavo per collegarlo alla rete elettrica andiamo ad estrarre ancora il contenuto della confezione con l'acquisto abbiamo anche all'interno una cartolina che ci permette di avere in regalo o un cavalletto o una cartina SD da 16GB quindi un motivo in più per andare ad acquistare questo prodotto ovviamente una piccola guida di istruzioni e il manuale di istruzioni completo manuale di istruzioni disponibile solamente in inglese ma in realtà come vedremo il funzionamento è molto semplice andiamo ad aprire il nostro proiettore come vediamo ben confezionato all'interno di questo polistirolo le dimensioni sono veramente compatte abbiamo una larghezza di 20 cm del nostro proiettore una profondità di 17 cm e un'altezza di 8 cm come vediamo quindi dimensioni veramente contenute la parte frontale presenta la lente che è protetta da questo tappo in plastica che ci permette quindi di andare a proteggere la lente quando non la utilizziamo si tratta di un proiettore wifi in grado di proiettare immagini fino a 1080p presenta un contrasto 2001 nella parte superiore come vediamo abbiamo due rotelle una quella più grande per andare a mettere a fuoco la vedremo poi attiva direttamente in modalità video l'altra invece è la rotella trapezo ideale per andare a sistemare il rettangolo dell'immagine nella parte superiore come vediamo abbiamo tutta una serie di comandi se non vogliamo utilizzare il telecomando fornito in dotazione nella parte laterale abbiamo invece l'attacco per l'alimentazione sull'altro lato come vediamo abbiamo una porta per schedine micro SD porta USB, porta HD per il collegamento jack AV e jack cuffie inoltre cavo VGA nella parte posteriore abbiamo un'ampia cassa si tratta di un proiettore da 3500 lumen con risoluzione di proiezione supportata da 1920x1080 si tratta di un dispositivo perfetto per collegare smartphone, ipad, tv box, fire stick, chromecast, ipad, ps3, ps4, xbox, laptop in pratica un dispositivo veramente versatile nella parte sottostante è presente anche un attacco a vite per andare a collegare il nostro proiettore a un cavalletto in modo tale da andarlo a posizionare al meglio dove vogliamo utilizzarlo adesso ci spostiamo con l'inquadratura direttamente qua sul telo e andiamo a vederne il funzionamento in modo concreto quindi una volta che abbiamo posizionato il nostro proiettore su un cavalletto andiamo a collegare il cavo di alimentazione come vediamo nella parte superiore si accende una spia andiamo ad accenderlo e vediamo che appunto si accende la spia in blu ovviamente togliamo il tappo dalla lente a questo punto dobbiamo andare a regolare l'immagine sul telo quindi con la rotella frontale andremo a regolare il focus mentre con la rotella posteriore andremo a regolare l'inclinazione dell'immagine quindi andiamo a spegnere le luci questa è la visualizzazione con le luci spente abbiamo ancora una forte luminosa come vediamo da questo lato che quindi non ci permette di avere un buio totale come vediamo abbiamo le diverse modalità di accesso quindi HDMI, VGA, AV, ambientazione questo è il menu praticamente di impostazioni iOS, Android, USB e media come prima modalità di collegamento proviamo a fare il collegamento in HDMI quindi andiamo a dare l'ok in questo caso dovendo collegare uno smartphone utilizziamo questo cavo che ci permette di collegare con la porta lightning e HDMI il nostro iPhone quindi collego la porta HDMI alla porta HDMI del mio proiettore in questo modo poi andrò a collegare la porta USB a un'alimentazione quindi in questo caso a un power bank e la porta lightning invece al telefono come vediamo sul proiettore viene visualizzato correttamente il collegamento quindi visualizziamo correttamente quello che vediamo sul cellulare andiamo ad aprire l'applicazione in questo caso di YouTube e proviamo a vedere un video ben tornati sulle licensioni per scegliere oggi vi parlo di un router portatile del TIR l'audio arriva direttamente dal nostro proiettore vediamo invece come configurare la connessione wifi quindi gli faccio fare la ricerca del wifi lui andrà a trovare le reti disponibili vado a inserire la password mettiamo l'ok e aspettiamo la connessione quindi una volta che abbiamo collegato il nostro proiettore al rete wifi possiamo andare a selezionare la modalità iOS quindi dal telefono ci basterà tirare giù andare a dare duplica schermo in automatico come vediamo ci trova il proiettore andiamo a selezionarlo e come vediamo vediamo direttamente il telefono quindi a questo punto possiamo scorrere andare sull'applicazione che ci interessa in questo caso per esempio YouTube e visualizzare un video infatti oltre Ischia Porto e Ischia Ponte di cui vi lascio il link qua sopra al video dedicato queste striature che si vedono sul video in realtà non sono dovute al proiettore ma sono dovute al telo che non è ben tirato ma in realtà se avete un telo ben liscio o una parete bianca la visualizzazione è ancora migliore come possiamo sentire la ventola è ovviamente leggermente rumorosa ma non dà particolarmente fastidio oltre alla proiezione su telo come abbiamo fatto noi possiamo anche andarlo a proiettare sul muro come vediamo la proiezione sul muro è anche ottima in questo caso ovviamente è sul muro bianco il contrasto è buono la chiesa di Santa Maria della Chietà è stata costruita nel 1616 dai marinai spero che questo prodotto vi sia piaciuto fatemi sapere con un commento qua sotto se avete già acquistato un proiettore o se avete intenzione di acquistarne uno mi piacerebbe sapere anche come avete trovato la qualità di questo proiettore come al solito vi lascio il link in descrizione per l'acquisto di questo prodotto e degli accessori da collegare come vi ho già chiesto all'inizio video vi chiedo di mettere un mi piace sotto a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche di tutti i prossimi video che andremo a pubblicare per questo video col proiettore cross tour è tutto io vado a finire di vedermi la mia serie tv preferita e noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico ciao